Canta al panno. Dai il vostro meglio. Dai cazzo colpisci. Ma a vedere non te vai. Nooo. Eeeeee. Nooo. Troppo foca. Alla terra. Pa. 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 ma si è un po' di fatti diversi fare la donna per la laurea e non è una ma non è una cosa ma non è una cosa ma non è una cosa come prima orizio chi ti ha invitato? come prima ma che su qua il parole di casa come quelli prima vai sto facendo lo primo piano piedi piedi vediamo il sangue vediamo il sangue peggio le mani peggio le mani eh eh eh